Io direi sicuramente ha condiviso con noi che la corruzione è uno dei problemi principali in questo momento del nostro paese e sicuramente anche il governo e tutto il Parlamento deve intervenire in tal senso per eliminare il prima possibile questa corruzione che porta via soldi ai cittadini invece le dà in mano di pochi.